I mezzi finalmente sono stati rimessi in moto e l'amministrazione comunale assicura che i lavori termineranno entro i termini contrattuali, ossia il prossimo 17 novembre, come previsto da un'ordinanza. Qualcosa si muove qui nel cantiere di Giacerantina? Non lo so, aspettiamo, ma non mi sembra il momento giusto, nel senso che è una settimana che c'è tutta la roba qua. Qui c'è da capire poco, non lo so, non si sa niente, non c'è alcuna notizia di nulla, vediamo, vediamo. Dopo giorni di calma piatta, il cantiere di via Fiorentina deserto, come lamentato anche da Confesercenti e Confcommercio, che continuano a chiedere lo slittamento non più a gennaio, ma al periodo estivo i lavori sono ripresi, un ritardo che stava preoccupando non poco i commercianti della zona. Le macchine non passano, i banchi piene di roba, lavori con questa gente che ti viene a piedi, ma meno della metà delle persone. Il pane una volta fatta, fine giornata, ve le buttate. Esatto, non è roba che puoi rivendere il giorno dopo. Se una lumaca vuole attraversare da marciapiede a marciapiede, lo può fare tranquillamente e non rischia nulla. E dentro i negozi, come vede, non c'è assolutamente folla. A chiedere spiegazioni sull'immobilismo del cantiere nelle ultime ore è stato lo stesso assessore alle opere strategiche Marco Sacchetti, chiedendo alla ditta appaltatrice conferme sul rispetto dei tempi previsti. In caso contrario avrebbe valutato la rimozione stessa del cantiere. Si tratta dei lavori per la realizzazione dello snodo viario tra via Fiorentina e raccordo urbano, riferiti ai sottoservizi per collegare la vecchia rete fognaria a quella nuova.